Vi parlo del mio nuovo libro, La donna felice, manuale di autoterapia femminile. Quanti volti vivono in una donna? Quanti mondi? Quanti mondi? Tanti anni di psicoterapia mi hanno insegnato che il femminile ha delle capacità profonde, delle antiche, primordiali, che sono capaci di risolvere i disagi. Se dimentichiamo questa sapienza primordiale del femminile, allora i disagi si cronicizzano. In psicoterapia le donne sono molto più capaci degli uomini di superare i traumi, gli abbandoni, le ferite della vita. Perché? Perché l'inconscio delle donne vive di tre elementi fondamentali. La materia, la quaticità e il divenire. Le donne sono in viaggio, sono in cammino. Per questo esiste dentro di loro ogni mese un sistema ciclico, un inizio e una fine, un'albe e un tramonto. Ma le donne tornano sempre al punto di partenza. Questo è il ciclo. Nascere e morire ogni mese. Nascere e rinascere. E tramontare. Ecco perché sono le signori delle stagioni, delle feste. Ci potrà mai essere una festa senza le donne? Molte volte si forma un attaccamento. L'idea è di esistere in un volto solo. Quello del dolore, quello del disagio. Quello dell'accaduto che ha creato la sofferenza. Io quando una donna viene da me in psicoterapia e sta male, cerco sempre di farle vedere i molti mondi che la abitano. C'è la donna abbandonata? Sì. C'è la donna che ha subito una ferita, un lutto, un disagio importante? Sì. Ma c'è anche la donna creativa. Le donne sono le madri di se stesse e del mondo. Questo libro si è ispirato molto al mio lavoro, ma tantissimo alle più grandi psicanaliste che ha avuto il mondo occidentale. E una voglio citarla che si gli ho leggetto i finzi, perché ha scritto delle cose memorabili sulla maternità. Ma la maternità non la intende come la gravidanza a cui siamo abituati, cioè le donne che partoriscono i figli. No, lei la intende come quella cura di sé che soltanto le donne hanno per se stesse e per gli altri. E se noi guardiamo il cervello, il cervello, nella sua parte più antica, l'ipotalamo, il sistema limbico, è il luogo dove si formano gli ormoni, dove ogni giorno una donna diventa sempre più donna. E ho già detto altre volte che quando un uomo ha un problema dovrebbe avvicinarsi a una donna, perché una donna produce dentro di sé un'energia simile al latte, che quando deve partorire servirà per allattare i piccoli, ma durante la vita nel cervello si forma incessantemente il seno, la lattità. Quando una donna cucina sta allattando il mondo. Quando una donna fa il bagno, ho visto come molte situazioni drammatiche, con vicissitudini esistenziali veramente pesanti, il bagno nell'acqua con gli incensi, le candele, era un ristoro. Perché la donna, gli antichi che ce l'hanno insegnato, era signora delle acque. Acque come il liquido amniotico, acque come le secrezioni, acque come il mare, acque come la vita. Quindi, mentre l'uomo, che pure XY contiene le femminine ma stesso lo rimuove e lo ignora, mentre l'uomo di fronte a un disagio chiude, sbarra la strada e vede solo il disagio con cui combattere, si mette a combattere, le donne, quando imparano a cambiare lo sguardo, a percepire il dolore, a vedere altri mondi, attivano volti che avevano ignorato. Se spiego ad una donna che quando sta male, non sta male per quello che le è accaduto disagevole, ma perché dentro di lei c'è una voce interiore, una donna primordiale che bussa la porta, che oggi ci piace chiamare anima, o forse anche il sé, che la chiama e le dice guarda che ci sono dei lati di te che non stai vivendo. E allora, una donna è sempre male nel senso che cosa caratterizza la maternità? La creatività. Le donne insegnano il mondo a creare, come quando insegnano i bambini a disegnare, a giocare, e proprio perché hanno questa capacità creativa, sono capaci di mettere molti mondi nel loro mondo. E questa è la terapia. Dove è finita la donna delle immagini? Nel libro parlo molto dell'immaginazione. Per star bene le donne devono immaginare, immaginare e poi immaginare ancora. Parlo del desiderio. Se c'è qualcosa che è stato colpevolizzato, punito dalla nostra cultura maschile, è stato il desiderio femminile. Molte donne ancora oggi vivono un desiderio sessuale che non sia verso il partner non abituale, con senso di colpa. E io faccio vedere loro che quel desiderio che appare, quell'erotismo che appare, quella afrodite come energia che si presenta dentro di lei come erotismo, in realtà sta semplicemente preparando una tappa dell'evoluzione. A questo serve l'eros. La tappa dell'evoluzione del destino di ogni donna. Le donne si eccitano, sì per il piacere, ma si eccitano anche per continuare il loro viaggio verso la loro evoluzione. Quindi, questo è molto liberatorio perché evita la colpevolizzazione. E poi, molte donne cosa dicono? Eh, mi sono innamorata di un altro e adesso devo deciderci a lasciare il mio partner, il mio marito oppure no. Ma non è questo il tema. Il tema è questo erotismo che arriva, sta scendendo in campo per portarvi, per portarmi a scoprire capacità di me, personalità che ancora non ho visto. Poi, la decisione è se vivere con uno o con l'altro. Avverrà spontaneamente. Le donne, proprio perché sono le signore del ciclo, sono anche le signore della spontaneità, della naturalezza. Ecco perché si regalano i fiore alle donne, perché sono le signore della natura. Ricordo alcune pazienti che, nei momenti più difficili della loro vita, si sono messe a prendere dei vasi, a seminare dei semi e quando fiorivano i fiori spesso stavano molto meglio. Il rapporto che esiste tra il femminile, l'aquaticità, il mondo, la cura, è una contemporaneità di eventi. La bellezza. Ogni donna tiene in un armadio un golf, una gonna, una collana, dove lei riconosce la sua bellezza. Magari lì da vent'anni, magari non la usa, ma lì riconosce la propria bellezza. La profezia. La profezia. Perché si dice sempre che le donne si accorgono del tradimento e gli uomini no? Perché l'uomo spesso è cieco. La nostra mentalità è spesso cieca. Guarda soltanto la realtà, l'attualità e basta. le donne percepiscono qualcosa che c'è oltre. Non era più lo stesso, sentivo che era diverso. Oppure arriva un'email dove ho sentito all'improvviso che mio marito stava male. Non c'era niente, non c'era nessun disturbo, esami su esami. Ma io l'avevo sentito. E dopo un po' è arrivata la conferma, dopo molto tempo. il femminile è uno stato capace di curare con la percezione. Cosa vuol dire con la percezione? Che le donne sono gli unici esseri del mondo che sono capaci di guardare i loro disagi, i loro dolori, di percepirli, di accoglierli e di guardare oltre. Quando lo imparano sanno che in realtà quel dolore che è arrivato non serviva a mettere a posto delle situazioni matrimoniali o di lavoro o di fallimenti ma a produrre la nuova personalità che doveva nascere. Dopo un dolore le donne quando si riprendono iniziano nuove attività, nuovi percorsi, nuovi amori e quel dolore che sembrava insuperabile, quel dolore che sembrava legato ad un addio di una persona che sembrava insostituibile prepara nuovi modi di amare, nuovi percorsi, nuove strade da percorrere. Le donne hanno un legame con gli oggetti che è veramente unico. Gli uomini se li lasciasse fare manderebbero i figli vestiti come quando avevano tre anni. Le donne segretamente comprano i figli vestiti per se stesse e li nascondono in una casa e li nascondono perché gli uomini direbbero ma come un'altra camicetta non avevi già cinque ma gli uomini non sanno che la bellezza è qualcosa che come dicevano i greci è un processo in divenire e va coltivata giorno dopo giorno. Quando una donna incomincia ad essere depressa? Quando non dà più importanza ai propri abiti? Quando smette di truccarsi? Quando non desidera più essere guardata? Guardiamo il corpo così come l'utero è il tabernacolo della vita le donne nascondono dentro di sé i segreti se volete confidare un segreto che non diranno mai a nessuno confidatelo alle donne le donne sanno essere segrete nascondono e si nascondono e quando da me una paziente mi viene a dire dottore vorrei dirle una cosa che non mi ha detto a nessuno mi dico no signora lo tenga con sé gli uomini mi sembra che la psicoterapia finisca se non possono confidare i segreti le donne invece sanno che comincia il loro divenire il loro andare verso qualcosa di sconosciuto di altrove una mia paziente ma come mamma ma quando il papà era qui vivo tutti i giorni lo sgridavi dicevi guardate quell'uomo che non sa far niente guardate che è lì a far niente e adesso che è morto no 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 oggi non posso venire e andare al cimitero ah guardate che al cimitero i fiori non li avete cambiati e io li cambio tutti i giorni gli parlo e gli dico guarda che qui le cose non vanno bene no 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 non vanno bene mio figlio si sta separando tu cerca di intervenire le donne sono esseri sognanti parlano con chi non c'è più e lo fanno rivivere dentro di sé perché le donne sono le signori delle immagini le donne si curano con l'immaginazione se voi sapeste quante mail io ricevo dottore ho cominciato a chiudere gli occhi e a immaginare il mio albero preferito e ogni volta che arrivava l'ansia le dicevo vieni pure vieni pure e la trasformavo nell'immagine di una donna antica che mi accarezzava i capelli che ballava davanti a me la libertà mentale del femminile quando è soffocata diventa malattia quando questa libertà diventa immaginativa quando diventa danza se chiedete alle donne di chiudere gli occhi e di immaginare una scena felice stanno ballando questa contemporaneità di molti mondi le signore della preghiera le signore della materia le signore della profezia le signore della vita che scorre le signore delle acque le signore del cambiamento le signore dell'eternità perché tutto muta come il ciclo ma tutto torna ho parlato molto anche della menopausa perché la menopausa è stata colpevolizzata dalla nostra cultura maschile come un'età in cui non facendosi figli è un'età inferiore per molte tradizioni l'età della bellezza è l'età della sessualità separata dalla via gravidica ecco io in questi anni ho cercato il mio femminile il femminile dentro di me attraverso le donne e le cose nella mia vita che sono riuscite che sono venute facilmente è perché io mi affidavo alla tenerezza alla dolcezza a volte anche alla rabbia ma mi affidavo a qualcosa di sconosciuto e quando dico alle donne di immaginare una donna antica che provvede io sto facendo rivivere un rituale antico come le donne di un tempo che andavano a parlare ad Atena la signora della saggezza o ad Afrodite quando si sentivano che avevano perso la capacità di amare o a Era quando volevano parlare della tradizione dei problemi familiari oppure molto tempo dopo alla Maria dei Cattolici e questa contemporaneità di eventi è la via della donna felice e c'è una grande scrittrice ebraica che dice che cita un detto cassidico siamo nati per essere felici e lei dice ma come essere felici nelle morti nel dolore negli addi negli abbandoni nelle sconfitte nelle tragedie sì c'è qualcosa che ti tiene in vita e quando molti anni fa qualche anno fa fece una conferenza con il rabbino capo della comunità ebraica e lui mi spiegò che i termini della felicità nella Torah sono 145 circa e mi disse che in fondo dobbiamo ricordarci che siamo felici per il fatto stesso che siamo al mondo la stessa cosa il Papa l'ha detto a mio carissimo amico e per comprendere che anche nel dolore c'è la gioia di vivere e l'insegnamento che ci danno i bambini è che accanto al pianto un attimo dopo giocano e ridono per il fatto che sei vivo c'è la gioia di vivere ma la gioia di vivere femminile è di tanti volti contemporaneamente e quando una signora mi dice io sto male da tre anni io le dico immagini una scena in cui da ragazza lei si divertiva giocava no no non ci riesco provi provi a immaginare delle scene manuali in cui lei è felice una cosa che mi ha fatto molto piacere che cito nel libro è che all'istituto dei tumori di Milano ma sta accadendo anche in altri istituti è stata introdotta la ricamoterapia un rituale antichissimo le donne non meditavano le donne ricamavano perché sapevano come nessun altro essere del mondo che si può essere consapevoli non con la mente che indaga ma con un gesto non c'è religione della terra che non abbia sacralizzato i gesti e le donne sono le signori dei gesti e il ricamo è uscire dal tempo è entrare nel movimento che crea la vita è uscire dal mondo ricordo una signora che soffriva di depressione che avevamo consigliato di tenerla in casa perché c'era il pericolo che committesse atti molto gravi su di sé che un giorno vede una sua amica che la assisteva che stava ricamando e lei che non aveva mai ricamato diceva non si fa così a base di mano il tombolo e si è messa a agire un lato innato non lo sapeva da quel momento ha incominciato a fare gare di tombolo gare di ricamo per dire che ci sono gesti terapeutici che solo le donne conoscono e il libro è la ricerca di un mistero quando le donne stanno male quando sono catturate dalla realtà quando sono solo le mogli quando sono solo le madri quando sono solo le lavoratrici quando non hanno spazio per liberare i tanti volti che li abito mi piace citare un autore che amo molto e che non c'è più Pietro citati il quale si è occupato tantissimo di Vermeer il grande pittore e Vermeer fa una cosa che nella storia della pittura fino a quel tempo non c'era quasi mai stata anziché ritrarre scene religiose e nature morte lui ritrae soprattutto donne ma donne che ricamano donne che sono alla bilancia donne che scrivono donne che lavorano donne e fino a qui voi direte che importanza ha ma c'è qualcosa di magico in Vermeer perché queste donne non le rappresenta mentre fanno operazioni manuali semplicemente come avrebbe fatto qualsiasi pittore no lui le illumina le riempie di una luce misteriosa le citate e dice guardate nelle azioni delle donne in qualsiasi azione delle donne nella preghiera nel disegno nel creare nel piantare i fiori nelle azioni delle donne nell'accarezzare nel custodire nel vestirsi nelle azioni delle donne è nascosta una luce interiore una luce che illumina se stessa e il mondo è un tema molto caro a tante tradizioni sapete quando io so che una donna sta guarendo quando si mette a fare cose che non faceva prima quando incomincia a sognare situazioni che aveva dimenticato quando incomincia a truccarsi a guardarsi allo specchio e a truccarsi creando un rito perdendosi nello sguardo perché come diceva shaming the troll show il grande saggio quando tu sei completamente immerso nelle azioni si forma una luce nel cervello che porta te stesso a realizzare la tua natura le donne sono maestre di questo quando sono perse nelle azioni minime come le chiama citati le donne stanno chiamando quella luce creativa che abita il profondo del cervello e che crea il divenire lì c'è la salute lì c'è la felicità buona lettura grazie